Ragazzi, nuovo codice creatore. Il nuovo codice creatore è STR, inseriscilo nello shop, taggami su Instagram, io sono andreapiaz-basso e verrai ripostato, grazie mille. Ragazzuoli, oggi un video molto particolare, vi chiedo di lasciare un mi piace se anche voi vorreste in futuro altri video così, non me ne aspetto tanti perché è un video un po' particolare, un po' dettagliato, quindi solamente gli appassionati di quello che è la parte competitiva e che conosce i player competitivi sicuramente lascerà un mi piace. Gli altri magari che non sono molto informati no, quindi non mi aspetto un gran numero, magari potreste stupirmi, insomma io la sfida ve l'ho lanciata, solo se siete appassionati dell'ambiente competitivo, se conoscete ovviamente i player in questione, in questo caso lui per forza, lasciate un pollicione in su, vediamo quanti di voi appunto sono così informati. Inoltre ragazzuoli vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre perché molti di voi sono disiscritti o più che altro risultano disiscritti per inattività, cioè non lasciano mi piace, non lasciano commenti, non guardano i miei video, dopo un po' YouTube ti disiscrive per un discorso di algoritmo, se tu non sei interessato a un canale ti toglie, che in realtà non è neanche troppo sbagliato, però molti magari si trovano disiscritti anche se non vogliono. Vi ricordo inoltre di inserire il codice creatore STR nello shop di Fortnite, codice creatore nuovo STR, tagliatemi su Instagram, io sono Andrea Piazza, trattino basso, buona visione boys! Ragazzi, il player in questione è Aqua, prima kill, subito ovviamente droppa Stark, perché vabbè Stark è un posto che premia, soprattutto un player di questo livello. Le kill sono state davvero troppe, secondo me, infatti qui parliamo di un world record, il primo ad aver fatto così tante kill in arena a questi punti, a questo punto di Fortnite ovviamente. Tre kill e non ho neanche iniziato a parlare, con questa la quarta, santo Dio, il discorso di questo player è che ha una conoscenza del gioco che raramente ho visto in altri player. Ehm, chiaramente per lui le arene sono, per lui le arene sono il passatempo, è abbastanza palese, però voglio dire. Uh, qua sta rischiando, attenzione, attenzione, Acqua. Vado a prendere l'Aiga, saggiamente sale, doppio mini, si rimette in pista, probabilmente, dracchi l'Aiga, poi naturalmente vabbè. Uh, che botta, naturalmente vabbè, il fatto che abbia uno spaz d'oro start game aiuta un po', 33, aiuta un po', ma non troppo. Mi aspettavo facessi un po' più di danni in realtà, sette kill star per Acqua, prova l'It, non riesce però ed è a po'. Dopo non è veritato, fa un 154 in piena faccia, eh, mi sa che stanno ad aprire il cavo, santo Dio che veloce. Ma non prima di aver distrutto letteralmente un altro player. Oh, prova il flick che non va. Prova una timer all'apertura dell'avversario che non arriva, ottimo ping, oh mio Dio, con che rapidità ragazzi. Non ho parole, 50 in volo, intanto comincia già a danneggiare l'avversario. Non ha shock, mi sa che stava cercando le shock, ma forse vuole curarsi in realtà. È full buzz, quindi, o quasi, comunque ce la può giocare tranquillamente. Lo fa cadere, uh, c'è la scala dell'avversario. Pensate che strano deva essere per gli altri trovarsi acqua contro. 10 kill start, 48, 49, in volo, 50 e poi 50. 4 colpi, 4 hit in pieno body. Santo Dio, 110 ancora, ha craccato l'avversario. Ancora acqua, l'ennesima kill. Ho preso il conto ragazzi, 12. È un drago, non è una persona umana. Zona di Doom adesso, verso il cavo. Shockwave, entra dentro il cavo. Doppia shockwave, in faccia all'avversario. Boom, 88, 37. E l'avversario non sta capendo niente. E l'avversario non ha capito niente. 13 kill. Ce n'è un altro comunque, non me l'ho neanche accorto io. Mi metto un box fight contro acqua, non deve essere divertente. Fightare contro un ma... Contro un player di questo livello. Fa solo 200 ragazzi. Oh, 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 oh. Rischia acqua di andare in lobby. 14 kill. Santo Dio. Questo video sarà tutto un santo Dio e un mamma mia e un mio Dio. Tutto sarà. Eccolo lì. Ok, inflica così. Prova un retake e gli esce benissimo. Spam sulla macchina. L'avversario sta sotto. Doppio edit. Ci riprova. Riplese del muro. Gli prende tutto. Eh, vabbè. Qui l'avversario non sta capendo più niente. Era lì col coso in mano e è morto. Con il foglietto in mano e è morto. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Va, bello. Bella la bouncer così al volo subito. Super reattivo lui comunque. Allucinante. Una reattività nei movimenti. Che assurda. Un piccolo E. Oh, doppio miss di acqua. Attenzione. Un po' di miss. Ma poi alla fine se la porta a casa così. Eh, vabbè. Un po' di errorino, dai. Bella. Shockwave così. Shockwave bouncer. Nella box direttamente. No. Oh, lì. 220. Così. Free. Facile. Veloce e indolore. Il nostro acqua se ne porta a casa un'altra. Eh, vabbè. Qualcuno lo fermi perché il santo Dio è davvero assurdo. Mi piace troppo come giocatore. Ditemi nei commenti chi è il vostro player preferito fra tutti. Io preferisco fra tutti Benji, Acqua. Mongra anche. Però Benji di più. Chi mi segue su Twitch lo sa. E sono in live tutti i giorni su Twitch, ragazzi. Mi raccomando. Anche in questo momento. 220. Quando uscire questo video io sarò in live su Twitch. Link in descrizione. Oppure Piazza Twitch su Twitch. E vi ricordo che domani alle 16 ci sarà l'annuncio del nuovo STR in live su Twitch. Domani alle ore 16. 9 ottobre alle ore 16. Boom. 220. Ancora acqua. 21 kill. 21 kill. Santo Dio. Ancora Bowser. Boom. 160. E poi tutti a dormire. Mamma mia. Fermatelo. 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 È un trattore. Non è un essere umano. Eh, vabbè. Bowser. Bello. Grandi Hig. L'Evressire non sta capendo niente. Provare i pesi del muro. Eh, ovviamente il ping è molto buono. Oh, esce in faccia però l'avversario. Mica male, devo dire. Un bel 100 in body. Eh, lo spazza. Il 100 assicurato con lo spaz, ragazzi. A meno che davvero non l'ho messi di brutto. Bello. Va bene. Questo è un pazzo completo. Questo è un pazzo completo. In volo, così. Eh, vabbè. 23 comunque, eh. 23. Al volo? No, va, no. Non ho capito niente. Eh, l'avversario ha sentito la pompata. Fa eh? Eh? E nel frattempo è stato smaciullato mentre cercava di capire l'autogestione. Dica male. Che poi sono tutte super fighe tra l'altro. Non è che dici fa kill brutte. Eh? Eh? Non ho capito. Basta farli al volo. Ha missato. Cosa è successo? Ah, qua. Eh, vabbè. Questa poverina. Ha missato. Cos'è successo? Strano. Fortissimo. Best player. Best player. Best player. È il best player. 88. Free kill. 27. Vabbè. Fermatelo. L'è sotto del video. Fermatelo. Oh mio Dio. Troppo forte. Wow. Non ci credo. Eccolo qua. Easy bounce. Serina. Non spara. Ma è stato buono oggi. Preso il muro. Messo il colo dentro. Bam. 44. 100. È easy. Niente. Non capiscono nulla. Eh? Diventano totalmente scemi. Diventano totalmente scemi. Oh. Prova la cecchinata. Sniperata al volo. Bouncer. Gli vola in faccia. Inizia subito a buildare. Eh vabbè. Questo è un treno. Non so cosa dire. È davvero un treno. Io non lo so. Al volo. È diventato un box fight. Contro acqua. I box fight. Non li puoi vincere. C'è chinata sul bush. Un po' improvvisa. Ennesima bouncer. Subito prendi. Oh. Questo è totalmente impazzito. Sta provando a beat fightare acqua. Non è una buona idea. Perché è un 150 subito. Prende il muro. No. Gli apre in faccia. Ma è impazzito. Sta scappando saggiamente. E muore così. Scappa saggiamente. Ma non riesce però a fare quello che dovrebbe fare. Ovvero riboxarsi. E in X8? Eh. Mi sa che è un po' di X8. Lo fa cadere. Mette tutto. Mi ha messo la base. Era geniale. Sta roba. Basta fare tutti sti danni. 187. Basta. È l'ultimo. È l'ultimo. Mi dispiace amico mio. Stai per essere distrutto. 36. Shock. E sì shock. Vabbè. Splash. Anche la mia strada si splasha. Bouncer. Oh. Oh. Sì. No. Non è vero. Basta avventare. Non mi ha fatto il video il più velo dell'anno. Sarebbe stato fuori di testa completa. Eh vabbè. Eh vabbè. Eh vabbè. Acqua. Cule l'acqua. Non sto capendo cosa sta facendo. Sono sincero. Holy shit. Però come sempre. Se l'ha portata a casa. Assurdo. Ragazzuoli. A me personalmente Acqua fa impazzire come player. Appena ha fatto una roba da pazzi. E tra l'altro ha siglato un nuovo record del mondo. Perché 32 kill. In solo arena. A questi punti. Naturalmente. Perché è da considerare anche i punti. E soprattutto a questo punto di fortuna. Perché giustamente magari. In passato qualcuno l'aveva già fatti. Anche se non credo. È un nuovo record del mondo. Ragazzi. Acqua. Dopo aver vinto la World Cup. Dopo aver vinto un sacco di soldi. A tutte le FNCS possibili. Continua a siglare record su record. Io non ho più parole per questo giocatore. Davvero ragazzi. Una bomba. Io mi auguro che questo video qui vi sia piaciuto. Io sono ancora scioccato da quello che ha fatto. Vedere roba del genere. È una bomba. Cioè. Sono. Boh. Non so cosa dire. Cioè. Prima di questo tipo. Sono troppo 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 bene da guardare. Ragazzuoli. Da Piazza è tutto. Un saluto. Non so. No.